Granbull Malamar Grumping Oh, Dragonair Reverse Figo, regà Skoline Oh Oh Prima pull Prima pull Subito Pidgeotex Attenzione Attenzione Arie è pesantissimo Vabbè Acqua Whooper Carvania Lechonk Pongus Flamingo Bronzong Beartic Rockruff Reverse Brasius Reverse Ecco perché era pesante ragazzi Nospas Litwick Tamogni Audino Un altro Charmander Oh Charminion Riga 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 può essere Charmander Charmander Charizard Frate Ma vaffanculo Exadrill Perché quando è così lo fanno apposta certe volte Lo mettono apposta tipo le carte così Exadrill Pidgeotto Magneton Reverse No ragazzi No ragazzi Etti 8-8 Questa è il 9 Energia a fuoco B-Sharp Magneton Time pole Hitmore Grumping Bellibolt Trevenant Whooper Di Paldea Reverse Oh Attenzione 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 Sì sì A voglia Ho già avventuto io Leone Arboliva Regola del Team Star Sede della Lega Pokemon Reverse Salandit Reverse E Pamotex EX Ti ho fatto scaricare io Inter Di guarda che manco volevi È vero È vero In gabit O incolne Qua vabbè Todd School Sì Reverse Si pronuncia Si pronuncia Crabominable Ok grazie Leone Numel Reverse Oh 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 Dragonhead EX Oh Metti Figo Ancora Berretto Ancora Bello Somm Tra Trabowellok Sì sì Wiglet Reverse Oh Hondur Attenzione Oddio Doppia 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 Li Link 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 A rock Propobus Pugno Dalla Rivalsa Pungus PJ Reverse Vabbè Vabbè ma sempre Così Vabbè ma sempre così Non è Eusky EX Io prendo il penultimo Che è se prende l'ultimo E vabbè sempre tu amore Tinemo Vulpix Prochi Schermori Ispion Sharpedo Larvitar Reverse Oh Verina Ma non è quella di prima ragazzi Scusate Ciao Magnemite Lainon Darmitan Dartrix Spoink Devole Teamstar Reverse Darmitan Darmanitan Vespiquin I Masquirent Ho scoperto che Netticola Col corriere Dalla sera Danno Il manga Pokémon Vabbè amore Ancora questo Regà Cram Crabone Eyeball Lam Reverse Claude Sur Di Paldea Reverse E Oh Miraiton EX Il leggendario Di Scarlatto E Violetto 13 13 su 36 Allora Abbiamo trovato Miraiton EX O Undor Non so come si dice Staggart Full No Art Gallery Ok E Escu Come cazzo si chiama EX ISQ EX Full Art Glimora EX Full Art Dragonite EX Normale Panwatt EX Charizard EX Gold Questa è bella Però dai Vespi Queen EX Varum Art Gallery Perché è una galleria PJ Art Gallery Verina Full Art Attenzione Verina Fuori Serie Fuori Serie Uno è 220 L'altro è 227 Quindi è questa L'art E poi abbiamo trovato Pidgeot E